E la signora del sabato sera di Raiuno, con il suo talento, la sua eleganza, il suo garbo, la sua gentilezza, il suo sorriso, ha conquistato il cuore di milioni e milioni di telespettatori. Una professionista molto preparata, staccanovista e ostinata nel lavoro, vi assicuro che non si arrende mai, portatrice sana, la definirei così, di serenità e di quella leggerezza intelligente. Grazie, benvenuta a XXI secolo a Milica Luce, grazie per questo regalo che mi fai. No, ma grazie per questa introduzione che è veramente troppo, troppo, troppo. Dopodiché io che dico adesso per essere all'altezza di tutto quello che tu hai raccontato? No, no, è da dire tante cose, da raccontare a me e ai nostri telespettatori tante cose. Possiamo dire che oltre allo stile di vita sano, la passione per il lavoro che ti ha reso unica? Beh, io ho avuto il privilegio di fare il lavoro che per me era un sogno. Ero destinata a fare il magistrato secondo papà e l'architetto secondo quello che poi ho scelto di studiare. Quando poi sono riuscita ad entrare in questo meraviglioso Luna Park, che poi non è un Luna Park perché è un lavoro duro, difficile, insomma sappiamo tutto, però sicuramente ha una creatività e una fantasia che, ecco, illuminano la vita di una persona come me. Io sono più felice per aver fatto questo lavoro, quindi sono grata. Non so se il nostro pubblico sa che per inseguire i suoi sogni Millie Carluci è partita giovanissima per Los Angeles, dove ha studiato al Diet of Studio. Che ricordi hai di quell'esperienza? Per me è stata un'esperienza fondamentale vivere in mezzo a gente così competitiva e così preparata come sono gli studenti, diciamo, del spettacolo in America, ma non solo a Los Angeles, a New York, ovunque si studi. Perché la cosa che ho capito lì è che non ti devi mai accontentare. Lì ogni ragazzo fa 300 scuole diverse, fa recitazione, edizione, canto, ballo, mimo, equitazione, scherma, tutto quello che può servire ad aggiungere una cosa in più sul tuo curriculum, in modo che quando il regista dice ma mi serve uno che io già ce l'ho. La versatilità è levata al sistema a paradigma. Un elemento che secondo me ti caratterizza è quello di voler sperimentare sempre cose nuove. Insomma, tu sei una persona molto proiettata sul futuro. Moltissimo. Io sono sicuramente più proiettata sul futuro che non sul passato, nel senso che io riconosco che tutti noi abbiamo bisogno di affondare le nostre radici nel passato perché proprio storicamente fa parte di noi. Però io guardo sempre avanti alla prossima sfida e soprattutto credo che sia importante non sedersi sugli schemi, diciamo, internet è abitua al copia e incolla, no? Ecco, noi non dobbiamo fare copia e incolla in questo lavoro, no? Soprattutto per noi che facciamo previsioni creative. Esattamente. Noi dobbiamo vedere sempre cos'è la cosa diversa, nuova, che diventa una sfida anche per la nostra creatività. A proposito di proiettarsi verso il futuro, so che stai lavorando al nuovo programma che è la Chiappa Talenti. Di cosa si tratta? Allora, si tratta di un programma del venerdì sera di Rai 1 che parte dal 10 maggio che sarà proprio questo. Insieme ad un gruppo di personaggi straordinari, cinque a Chiappa Talenti e tre giurati, noi metteremo insieme una serata di grande divertimento dove lo scopo dei nostri a Chiappa Talenti sarà quello di trovare tra quello che noi presentiamo il miglior tipo di talento che si adatta alla loro personalità. Insomma, sarà un programma di grande, grande divertimento, di evasione. Questo programma si chiama XXI secolo, quando il presente diventa futuro, quindi sicuramente è molto importante il futuro, però consentimi di parlare un po' del tuo passato, del tuo passato di donna, e quindi di citare una figura che è stata molto importante per la tua crescita personale, quella di tuo papà Luigi, tra l'altro da poco passata la festa del papà. Del papà. Ecco, come ce la vuoi ricordare? È vero che tu l'hai definita a un certo punto un vero femminista? Papà è stata la persona che ha spiegato a noi tre figlie che la cosa più importante era studiare e crearsi una indipendenza professionale, perché ha detto che quando tu sei indipendente, ma non solo per il fatto che hai dei soldi e dello stipendio indipendente di testa, nessuno ti potrà mai, diciamolo tra virgolette, mettere sotto, nel senso che nessuno ti può condizionare, nessuno ti può costringere a nulla, perché sei libero, sai quello che vuoi dalla vita. Questo detto a delle ragazze è una cosa importante, chiaramente le ragazze sempre di più si sono evolute, noi siamo passate da una società nella quale l'unico ideale era trovare marito e ancora era così appena passata la guerra, ad un momento in cui poi le donne hanno cominciato a studiare, a cercare comunque una piccola, diciamo una piccola affermazione nel lavoro. Di affermazione di gratificazione. E adesso ci sono le donne che invece vogliono la carriera, cioè che stanno cercando una identità nel lavoro, che è una cosa importante, io lo vedo con mia figlia, che è molto motivata, e quindi è una generazione, credo che possiamo essere orgogliose di come le ragazze si siano evolute così rapidamente. Invece il papà televisivo di Milli e lui, scopriamolo insieme? Ovviamente. Milli Carlucci, ecco, vorremmo vederla se lei riuscisse a giustare il nostro impianto. Ecco, Livigno. Ciao, ciao amici, ciao Renzo, qui Milli dal piccolo Tibet. Il piccolo Tibet sarebbe Livigno, dove siamo qui per una gara di hot dog. Piccolo Tibet, perché forse è una zona talmente inaccessibile che assomiglia proprio al Tibet. Siamo qui per una gara di, non di panini, anche se hot dog significa appunto, cioè significa il panino col wurstel bollente all'interno. E questa invece è una gara di sci acrobatico. questi sciatori sono dei ragazzi coraggiosissimi che si riescono a buttare dal trampolino facendo salti tremendi, capriole, salti mortali, oddio, eccolo, appunto. Oppure sono capaci di scendere per una pista accidentata di gobbe, oppure riescono anche a fare un balletto sull'isci, insomma cose fantastiche. Non so perché si chiamino hot dog, cioè quella energia ci sia tra il sassicciotto caldo e questi coraggiosissimi, spericolati sciatori. Comunque indagherò adesso chiedendo ai ragazzi, un attimo. Tanto una velocità pazzesca. Pazzesca. E no, perché il tempo era pochissimo, doveva durare. Tu lo sai molto bene. Conosco questo tema. Lo sai molto bene. Lo conosciamo tutti perché dietro, voi a casa non lo sapete, ma dietro la telecamera ci sono dei signori che poi a un certo punto sono dei preziosissimi collaboratori, ma che finiscono per esserci anche un po' antipatici, perché non fanno altro che fare questo gesto, no, stringi, stringi, no, scherzo naturalmente, sto scherzando. Stai scherzando, ma non troppo, è un po' così. Comunque Renzo Arbore fu il primo a credere in te. Raccontaci un po' questi incontri. Allora intanto, ciao Renzo, io ti adoro, lo sai, per me rimani più che il mio papà, sei veramente il mio creatore, perché lui mi diede fiducia nel momento in cui io cominciavo e non avevo nessunissima esperienza, se non la mia parlantina, perché ragazza universitaria con un po' di studi alle spalle, parlare non era difficile, però finiva lì la mia esperienza. E lui mi diede la possibilità, insieme con Ugo Porcelli, perché era un duo che veramente ha fatto la nuova televisione, mi ero l'occasione di imparare questo lavoro in una redazione molto creativa, come quella dell'altra domenica, dove ognuno portava le proprie idee, poi Renzo giudicava insieme a Ugo, questo sì, questo no, e poi si partiva facendo il lavoro a tutto tondo, cioè io non avevo truccatore, non avevo parrucchiere, tanto per dire per l'estetica, ma non avevo nemmeno qualcuno che mi dicesse cosa dovevo dire, cioè il pezzo me lo creavo da me, insieme con il mio regista, con l'operatore e via. Però posso dire, Millie, che questo poi paga, perché quando tu hai un trascorso del genere poi riesci, come nel tuo caso, ad essere anche autrice, anzi capo autrice di tutta una squadra di collaboratori, questo fa la differenza. Beh, questo però è stato l'intuizione di Renzo che ha dato alle donne della televisione, in un'epoca dove c'erano solo vallette, in quel momento, no, era il mondo delle vallette mute, molto carine, che sorridevano, portavano la busta, facevano il grande sorriso al pubblico e se ne andavano. Creò proprio una schiera di donne parlanti, c'era Isabella Rossellini, c'era Mimmo Annocelli, insomma c'erano tante donne, ragazze, che proponevano un modo diverso di fare televisione, cioè parlanti e pensanti. C'è un'altra figura molto importante per la formazione lavorativa di Millie Carlucci, vediamo di chi si tratta. Ho sentito Millie sorridere, credo che abbia qualcosa da chiederti. No, io sorridevo quando prima parlavate delle donne e allora tu dici che non hai mai avuto un atteggiamento maschilista, però sei apparso sulla copertina di Playboy con una donna aggrappata alle tue gambe, proprio nel classico atteggiamento dell'uomo maschilista con la donna ai suoi piedi. Beh, ma questo è perché è un gioco. Cioè allora io gioco a fare il maschilista, però in effetti invece poi non sono maschilista, sono uno che crede di avere non più degli stessi diritti che la donna. E come mai proprio una copertina di Playboy, una cosa che non rientra molto nel tuo quiscine? Così perché no, perché a me piace cambiare, a me piace non fare sempre il solito discorso, non fare sempre i soliti gesti. Quindi è un rinnovamento? No, mi dà fastidio, ripete, mi stanco da solo sentirmi e quindi ho fatto una copertina così anche perché io non credo che si possa giudicare un uomo da una copertina. Gianni Minà che ti vuole al tuo fianco in quello storico programma che fu Blitz, no? Anche in questo caso tanti ricordi. Grande occasione, anche lì tanti ricordi, il ricordo di un grandissimo giornalista che ecco io ho avuto la fortuna di lavorare accanto a persone che davvero mi hanno insegnato qualcosa ma l'insegnamento non è che uno ti dice Millie si deve fare così eccola, tu li vedi lavorare e ti accorgi di cosa fanno, di qual è il miracolo che compiono. Gianni aveva l'incredibile capacità di mettere insieme delle persone che non potevano stare insieme impossibili da rintracciare impossibili da intervistare impossibili da far sedere nello stesso salotto e invece lui riusciva a fare questo e aveva un'agenda che farebbe invidia ancora oggi a qualunque persona che faccia televisione di tutti i tipi cioè tu partivi dal mega presidente che ne so di una grande società di produzione americana a un grande attore grande cantante grande giornalista internazionale insomma tutti e la sua umanità poi era quella che era il centro del suo lavoro perché tu devi essere sinceramente interessato alle persone con cui ti confronti e lui era sinceramente interessato a tutti altrimenti non avrebbe poi avuto la fiducia di persone come Gorbachev come Fidel Castro come Papa come tutti coloro che lui ha intervistato e poi tu hai visto hai sentito la frase di Celentano che dice anch'io mi stanco di me stesso se ripeto le stesse cose mi ci ritrovo in questa frase è verissimo è verissimo se Arbore è stato il padre televisivo di Millie Carlucci non possiamo dimenticare il suo fratellino televisivo dimmi quando 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 e baciandomi dirai non ci lasceremo mai non ci lasceremo mai non ci lasceremo mai brava 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 grazie ciao 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 oh sono andata così come te siamo altri uguali potremmo indossarli allora complimenti grazie ma anche sul ghiaccio sei anche sul ghiaccio sì maestro maestro vieni con me che c'entra questo sul ghiaccio già io non mi leggo in piedi così cioè no nel senso col ballo col ballo col ballo no il programma scommettiamo che Fabrizio Frizzi sono e resteranno nel cuore di tutti i telespettatori italiani Mili nella vostra conduzione si respira si respirava ecco non solo una grande complicità professionale un grande affiatamento tecnico professionale ma direi una vera e grande amicizia un'amicizia con la A maiuscola forse sì 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 infatti questo è stato il segreto di un lavorare in coppia che ha creato un modello che poi non c'è stato più in televisione lui gli italiani lo hanno amato profondamente quando è scomparso ha lasciato veramente un vuoto incolmabile perché aveva delle qualità di umanità sincerità verità che pochi hanno e ha conservato una normalità che che lo ha reso unico perché poi in mezzo a tutto il successo ma anche nei momenti difficili perché anche lui ha avuto gli alti e bassi ma è rimasto se stesso una persona normale un bravissimo ragazzo buonissimo davvero nel 1993 Mili Calucci inizia a condurre l'evento mondiale a scopo benefico Pavarotti and Friends che è andato in scena lo ricordo dal 1992 al 2003 a Modena è stato trasmesso in prima serata su Rai 1 ecco che rapporto hai avuto con il maestro Pavarotti con questa leggenda della lirica un rapporto meraviglioso perché anche lì ho avuto la fortuna di essere accanto ad un genio di grande semplicità perché poi la cosa straordinaria che scopri quando in questo lavoro incontri tante persone è che in genere sono i piccoli che se la tirano molto i grandissimi sono invece persone molto tranquille cioè molto molto alla mano no? e lui si divertiva e si emozionava tantissimo a fare questo esperimento di pop di commissione tra il pop e la lirica per cui è stato anche criticato cioè le cose non sono mai facili perché lui è stato accusato di aver tradito la lirica invece lui diceva no io porto la lirica nelle case i puristi della lirica certo però invece lui ha portato la lirica nelle case di quelle persone che probabilmente non erano mai entrate in un teatro e forse non ci sarebbero mai entrate nemmeno dopo però intanto sono state contaminate dalla bellezza di questo suono dalla grandezza della sua voce comunque in occasione di Pavarotti and Friends tu hai incontrato i personaggi dello spettacolo più grande del mondo ti viene in mente qualche aneddoto? guarda veramente lì è passato chiunque da Bono con la folla che era impazzita adesso stai vedendo Grace Jones la folla impazzita per lui non si riusciva a parlare non si riusciva gli altri non riuscivano a cantare perché tutti continuavano a chiedere l'arrivo di Bono ma poi c'è stato Elton John Céline Dion eccola venne la principessa Diana come spettatrice c'era che ne so Prince e poi Michael Jackson insomma il mondo è passato lì perché tutti erano onorati di essere con lui era un esperimento anche spericolato perché spesso per lui non era facile accoppiare la sua immensa voce a quella dei cantanti pop c'era un po' improvvisamente uno shock quando lui entrava e cominciava a cantare ma fu veramente un'esperienza magica magica noi abbiamo portato lui ha portato nelle case degli italiani i più grandi del mondo nel 1992 Millie Carlucci ha anche calcato il palco dell'Ariston a fianco del mitico Pippo Baudo che salutiamo con un grandissimo abbraccio e adesso la classica nostra Millie Carlucci ciao 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 buonasera 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 questo è un omaggio dei floricultori di Sanremo ma di tutti noi la mimosa si avvicina alla festa della donna e poi noi festeggiamo stasera una donna per la seconda volta mamma ah Pippo grazie dei fior tra tutti gli altri gli ho riconosciuti allora ci tenevi a questo Sanremo? ci tenevo moltissimo perché non l'avevo mai fatto era uno dei miei sogni infantili quelli di essere su questo palcoscenico come quelle belle signore che io vedevo in grande abito da sera che cantavano infatti io dicevo ma chissà se un giorno potrò arrivare a Sanremo e cantare e ho fatto la prima parte l'hai fatta poi non si sa mai cosa ricordi di quella tua prima volta se posso usare questa espressione ma no ma la cosa è incredibile è che quello è un ricordo che per me è rimasto un po' nebbioso e ti spiego perché Patrick il mio secondo figlio era nato da un mese quindi io sono stata scaraventata da Los Angeles dove è nato Patrick dopo praticamente due settimane a Sanremo in quello stato confusionale che ha una donna che ha il calo degli ormoni dopo una nascita per cui non so che cosa ho fatto e non so che cosa ho detto veramente però insomma sembrava abbastanza coerente assolutamente sì cinque anni dopo Milica Luci è tornata a Sanremo se non ricordo male insieme alle sue due sorelle Gabriella e Anna e allora vediamo quest'altra videoclip dobbiamo però dobbiamo però dire innanzitutto il motivo il motivo è il motivo sul sapere sull'inizio l'avete adattato della bellissima città dei fiori no lo dico no perché Millie è la più chiara di tutte noi e in quanto parla sempre meglio di lei ecco il motivo per cui è venuto per cantare una canzone dice che cantiamo siamo venuti a cantare una canzone sì perché qua abbiamo visto che laurito pacciabani tinto pondo pallini cacci pantone cambiano tutti allora cantiamo anche noi dice che cantano tutti allora cantiamo anche noi in questo festival di Sanremo guarda che Sanremo non si può dire no Sanremo città si può dire saremo citati potere è proprio bene senti quando ti sei vista imitata da Tullio Solenghi che cosa hai provato? allora secondo me lì chi si deve veramente offendere è Anna che è stata imitata da Massimo Lopez coi baffoni capito? voglio dire va bene che donna baffuta sempre piaciuta ma insomma no però geniale geniale è stato un momento di enorme divertimento anche perché ovviamente loro hanno colto quello che è il mio modo di parlare su cui ho cercato di lavorare poi negli anni non essere così precipitosa piaci per questo piaci per questo perché hai padronanza di linguaggio hai velocità poi insomma per i tecnici è bene che voi a casa sappiate che non è facile riuscire a trovare la parola giusta al momento giusto bisogna disporre anche di un vocabolario particolarmente ricco perché altrimenti ti escono sempre solo le stesse parole e non puoi fare questo mestiere sai che Tullio sarà il prossimo nostro ospite che meraviglia guarda io lo adoro è stato con me in maniera clamorosa ballando con le stelle ha lasciato veramente un ricordo strepitoso ma anche Massimo poi è venuto ballando con le stelle e tutti e due sono stati anche al cantante mascherato quindi siamo una famiglia che ha dimostrazione che non me la sono presa anzi li ringrazio veramente di questa imitazione nel fantastico del 1997 Mili Carlucci ha avuto il grande onore di ospitare il regista Jean-Jacques Hanoux in verità nella stessa occasione ha intervistato un altro personaggio non proprio secondario guardiamolo insieme Jean-Jacques Hanoux eccolo qui e insieme a lui c'è Brad Pitt un attore americano bello famoso importante molto amato dalle donne ma che poi invece in tutte le sue interviste si rivela molto modesto dice di non tenere a questo ma che cosa vuole veramente dalla sua vita e dalla sua carriera lui dice che vuole dalla vita esattamente quello che sta facendo adesso lo sta facendo ci sono dei prezzi da pagare ma finché uno rimane onesto e se stesso va benissimo e allora io ringrazio tantissimo Brad Pitt per essere stato con noi thank you very very much and thank you for the flowers thank you for having us beh come dici tu flowers non lo dice nessuno perché poi Millie è una delle pochissime conduttrici che comunque parla l'inglese come se fosse la prima lingua no però volevo ero incuriosito da quello sguardo consentimi un po' interessato di Brad Pitt l'uomo più bello del mondo che ti divorava con gli occhi no 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 tanto io sono amico di tuo marito quindi insomma sono sicuro che me la perdonerà questa no poi lui era lì in studio perché ovviamente ti puoi immaginare quello che non si è visto con la telecamera cioè quale fosse la folla compatta al di là delle telecamere perché quando si è sparsa la notizia che arrivava Brad Pitt c'è stato proprio l'assalto al teatro delle vittorie no lui è una persona ecco l'occasione di incontrare un grandissimo che ha una semplicità è visto proprio una normalità ma come è capitato quando ho intervistato Richard Gere per esempio a Verona ma in varie occasioni persone che hanno veramente il mondo ai loro piedi ma poi sono persone perché poi alla fine questo siamo tutti no la fama è quello che tu cerchi di conquistare attraverso il lavoro ma non sei diverso cioè hai sempre due occhi un naso due mani anche altri uomini in scena e in diretta devo dire hanno mostrato una particolare attenzione nei confronti di me ma sei proprio un discolo ma davvero Roberto Penigni per favore per favore aiuto 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 oh mamma mia oh mamma mia che sono tutta intera sono rimasta intera Roberto era David Donatello 2002 no? e ti aspettavi questa manifestazione così calorosa no assolutamente no mi sarei preparata mi sarei messa in difesa da arti marziali no ma lui era il periodo che così faceva queste irruzioni simpaticissime e poi noi avevamo avuto l'occasione di incrociare le nostre vite con Renzo perché anche lui era in quella mitica altra domenica anche lui è stato era il critico che faceva la magia con la lampada che si accendeva e si spegneva quindi ci conoscevamo e lui è così e questo spiritello io ricordo è stato anche ospite al TG1 ma a parte diciamo quel momento memorabile quando Benigni salì sul tavolo del TG1 con Giulio Borrelli conduttore dell'edizione delle 20 ma poi anche una volta in cui l'ho ospitato è stato particolarmente però non siamo arrivati ovviamente a questo beh meno male meno male sarebbe stato imbarazzante al TG1 Millie Cannucci ha condotto tantissime altre trasmissioni da giochi senza frontiera lo zecchino d'oro Luna Park cantante mascherato ma il suo programma cult è certamente quello che ha portato e porta tanta voglia di ballare nelle case degli italiani chissà chissà domani su che cosa mettere le mani se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa e alzare la testa non esser così seria rimani rimani i russi i russi gli americani non lacrime non fermarti fino a domani sarà stato forse un tuono non mi meraviglio è una notte di fuoco dove sono le tue mani aspettiamo che ritorni la luce di sentire una voce aspettiamo senza avere paura domani allora devo fare una confessione ai nostri telespettatori abbiamo scelto di mostrare una rara esibizione a Ballando con le stelle di Mili perché secondo me secondo gli autori è la sintesi suprema del programma non solo conduttrice ma anche autrice e capo progetto Mili Ballando è proprio la tua creatura Ballando le mie creature al punto che come vedi mi sono messa a fare una cosa che non mi appartiene perché io non sono una ballerina lì facevo l'ancora di salvataggio perché? perché il venerdì sera ci viene a mancare l'ospite che doveva essere il ballerino per una notte dovendo andare in onda il giorno dopo chi c'era che tu puoi chiamare alle 11 di sera? solamente io e quindi a mezzanotte viene convocato Pablo che mi insegna un po' di passi io tra l'altro ero vestita in quel momento con degli scarponcini il giorno dopo quando abbiamo fatto la diretta io avevo le scarpine tutte belle cose ho detto no 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 mi rimetto gli scarponi che avevo ieri sera infatti guarda perché se no ho una sensazione diversa rischio di cascare e quindi nacque questo ballo di salvataggio dove lui mi diceva all'orecchio tutto quello che devo fare perché io non mi ricordavo risultato eccellente onestamente tutta questa improvvisazione non si nota questo essere un capoprogetto che deve avere mille facce mille parti e quindi non solo tutto quello che c'è da costruire qualche volta va in prima linea senti sono tanti i motivi che hanno reso questa trasmissione una trasmissione di grande successo per la RAI sabato sera direi uno poi è sempre molto complicato secondo te qual è l'elemento a parte te naturalmente che ha fatto la differenza che ha portato questo programma nel cuore degli italiani intanto la passione degli italiani per il ballo che è una cosa che accomuna tutti dal nord al sud ogni classe sociale tutti amano ballare anche quelli che come te fanno finta di non amarlo e che si ritraggono sempre e non accettano mai nessun invito e qui sei colpevole e lo dico davanti a tutto il pubblico ma sai io veramente ti farei perdere tanti ascolti no 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 perché sono veramente negato per il ballo al massimo non esiste non esiste e poi l'altra grande cosa è il cast perché le persone che ci fanno l'onore di essere ecco adesso tu stai vedendo Simone Aventura prima c'era Wanda Nara l'ultima edizione di Ballando sono persone che poi ci portano le loro storie la loro forza la loro fragilità i loro sogni cioè ci portano l'umanità che ognuno di noi porta con sé ovviamente quindi è questo che lo rende speciale ogni anno manca solo un personaggio all'appello uno e chi è? Francesco Giorgino no 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 mi li io veramente sono legato per il ballo ma tutti gli uomini lo dicono c'è in voi uomini una remora ancestrale al fatto di sciogliersi eppure voglio dire fino a diciamo prima della guerra tutti gli uomini sapevano ballare nelle sale da ballo c'erano uomini e donne che ballavano insieme poi si è persa si è polverizzata parliamo del libro di Mili la vita è un ballo ballando siamo tutti stelle libro nel quale Mili Carlucci consiglia a tutti appunto di scendere in pista perché cito testualmente perché è una frase significativa la danza ha il privilegio di saper donare quella leggerezza di cui tutti abbiamo un gran bisogno è vero è vero e tu non sai quanto fa bene alle persone per esempio che portano dei che attraverso dei momenti oscuri della propria vita perché magari reduci da una malattia importante perché stanno facendo una terapia pesante Caroline Smith si è fatta portatrice in tutta Italia di questo messaggio creando dei percorsi di ballo per donne per esempio in chemioterapia e aiuta tantissimo aiuta nella psicoterapia di coppia per esempio aiuta in tanti problemi bambini con problemi di autismo o di altre sindrome messi in classe di ballo ne hanno un giovamento tutti noi attendiamo la nuova edizione di ballando con le stelle a ottobre qualche anticipazione adesso io sto pensando alla chiappa talenti una cosa per volta quello arriverà ad ottobre quindi adesso la chiappa talenti da maggio e tutte le nostre forze sono nel nel creare un programma che vi faccia veramente divertire io penso che la leggerezza sia un valore a cui ci dobbiamo aggrappare in questo momento perché siccome siamo bombardati da problemi allora uno torna a casa la sera e noi tutto il nostro gruppo vi vuole dare veramente un paio d'ore di evasione pura per cui aspettateci con questo sapendo che non vi tradiremo quindi l'intrattenimento è un antidoto rispetto ai tanti problemi di questo periodo non li risolve chiaramente ma è è un modo per avere delle finestre di ottimismo perché non puoi essere sempre sotto pressione con i tuoi problemi personali che tutti hanno il mutuo i conti da pagare i figli le cose eccetera e in più tutta questa atmosfera cupa internazionale che ci gira intorno hai bisogno di momenti di sorriso di essere anche un po' sciocco ma non stupido cioè è un modo leggero sano di liberarsi da qualche peso di tirare via qualcuna di queste corde che ci avviluppano grazie 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 a Mili Carlucci stella del firmamento televisivo o o a o o o as Grazie.